Ehi ciao partiamo con due birre che devo innaffiare mille se Tiro quando c'è da spingere e ho le pupille che non sanno fingere Il mio respiro cigola con te come Nike sul parquet E piango più spesso di te anche con spisso da tre Che è così facile scivolare ma tu sei brava coi pattini Da un po' che ti guardo ballare canzoni orrende a cui fai fare i pattini E fare basso coi petali tu paziente completami Che se ti concentri sì in un abbraccio siamo cerchi concentrici A volte sono invisibile come il drinking disco Poi mi sveglio con i fasti ed il fastidio E mi rifugio in una frase che nemmeno capisco Magari è solo un periodo Ma con te ci vorrei uscire di venerdì Come un singolo nuovo su Spotify E ti dimenticassi tutti i progetti qui Che poi magari li trovo e tu non te ne vai Io ti voglio incastonare in questo mare Una canzone che si lascia anche stonare Con due bicchieri colpi all'alba Ballare male e darsi colpi all'anca Sei il mio singolo nuovo su Spotify Sei il mio singolo nuovo su Spotify Tu se vuoi puoi darmi gli anni ai lati della bocca Io voglio solo rannicchiarmi dentro la tua ombra Quanto ci metti santo Dio Ti vesti e scendi o ti spogli salgo io che sai Le scelte hanno gambe stupende in una gonna lisa Fra due fianchi stretti Le cose giuste somigliano alla Mona Lisa Ti guardano ovunque e ti metti Tu invece le tue idee me le dici a graffi E poi con l'altra mano benedici i muffin Siamo corpi che si sono attratti come Piro Noi siamo felici a pratti Tu sei come il ceseratico a metà novembre L'eterno fascino di spiagge deserte Sei come un cameriere nelle vecchie taverne Quello che mi serve Ma con te ci vorrei uscire di venerdì Come un singolo nuovo su Spotify E ti dimenticassi tutti i progetti qui Che poi magari li trovo e tu non te ne vai Io ti voglio incastonare in questo mare Una canzone che si lascia anche stonare Con due bicchieri colmi all'alba Ballare male e darsi colpi all'anca Sei il mio singolo nuovo su Spotify Sei il mio singolo nuovo su Spotify Bye Sì 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 Sì